Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, io sono Barry Ragazzi oggi vi porto l'M16, un'arma che non ho mai usato, in realtà l'ho utilizzato un paio di volte e siccome ormai usavo sempre le stesse armi, ho detto c'è proviamo qualcosa di nuovo Così ho preso il progetto, ragazzi e gli ho cambiato giusto un paio di cose Comunque tranquilli perché in descrizione, non sto scherzando, c'è la build Non è la migliore, in realtà mi manca il silenziatore l'ultimo ma penso che ormai quando voi vedrete questo video l'avrò già portato al livello necessario Il fatto sta che è un'ottima arma, è molto divertente, è fortissima tra l'altro da media di stile Io non pensavo fosse così forte, però niente da media di stanza scioglie, da lontano fa un po' fatica mentre da vicino diciamo che un MAC lo ganna facilmente Però ragazzi onesto da media di stanza secondo me è una delle armi più forti in gioco in questo momento Un gameplay da più di 20 bombe, godetevi tutto il video, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale Passate su Kinguin che c'è ancora il giveaway per Cold War, mi raccomando E su Twitch ovviamente, comunque tutti i link sono in descrizione, dal Berone è tutto, buona visione Grazie mille! Grazie. Vai, contento? Dai, godi, fanne una, almeno è vinta. E me ne stanno. Avevo pure due. Minchia, godi, ho preso la kill io anche. Anche. Robi, c'è uno sopra il tetto. No, no, no. No, no. Ah, mi ha fatto la... Guarda che sono sul tetto. Perché è Biagian... Dai, micia, per leggere Biagian Tonacci. E' entrato qua da me? Buono. Morti tutti? Sì. Buono. Senti? Sì. Eh, guarda su, rosso, pieno. Anche qua? Scusa, ma quali sono quattro? Ah, ne vedo uno lì? Terra? C'erano altri due. Dove? Dove sono fatto io? Fatto? No, 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 no. Porco due. Robi, ti sento un po' giù, eh? Non mi piace quando sei così, lo sai, eh? No, sono cotto. Dai, scusa, stacca se non ce la fai più. Robi. No? Oh, cazzo, ma si poteva salire? Disse il Goddy che non l'abbiamo visto per vent'anni quando lavorava. Questi si vanno a rilutare al mio ping. Ah no, sono venuti qua. Ma sto tipo qua, scusate? O l'ha finito o l'ha quittato, perché, cioè... Maschio, raga, tra l'altro è un pazzo. No, mi sa che l'aveva finito. Tra l'altro, raga, è un pazzo che non avete idea. Maschio, me l'aveva detto Leo, eh? Quando ho parlato con Leo, raga, me l'aveva detto che i maschi sono... Sono mutato, no, cazzo. Mi aveva detto che... Sì, si è acquittato. Che sono dei matti. Leo Velox, dico, eh? Infatti prima abbiamo parlato un po' e mi ha spiegato che... Purtroppo, andando avanti, magari imparerà giusto a fare la cacca sempre al solito nella lettiera così, però di base, raga, fanno macelli. Cioè, non puoi... Non puoi tenerli a bada. Sono gatti che sono proprio di indole così. Non lo fanno per cattiveria. Infatti è straffettuoso, raga, chilo, eh? Cioè, lui fa proprio urla se non è con qualcuno. Se non c'è qualcuno con lui, a meno che non è proprio cotto come adesso, sennò rompe le scatole. Se il gioco mi faccia il bombardamento, il bombardamento. Fattu' uno. Tutto bombardato. Bombardato per un cazzo. Ok. A sinistra, su, giù, centro, figa. Questa raga fa... A sinistra, su, giù, centro, figa. Giuro. A sinistra, su, giù, centro, figa. O qua? Cazzo due. Oh my god. Fatti. Due team di version. Morto ancora Roby, raga. Hai visto leggendo la chat berman? Sbattendo il cazzo del gioco. Roby. Sinceramente. Roby. Cazzo, ma ce l'ho davanti. Terra. Ok, l'altra è anche graccato. Morto. È tua. Roby, sopra. No. 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 E' un troll questo, Roby. No, te l'ho detto, ma perché mi continui a parlare? Vabbè, aspetta, aspetta. Sto continuando a parlare. Vabbè, ho capito. Più che altro c'è, Roby, questo è un gameplay da YouTube, minchia. Se rimanevi vivo non era male. C'ho 19 kill con l'M16. Bello. Ecco, guardalo qua. Un colpo, un colpo, un colpo. Bravissimo. Una botta? Ricarico, devo ricaricare? Eh, me lo affantino. Lo so, per trombare questo qua, eh. Credo ci sia gente qua sopra, eh. Prendo massimo allerta, io. Ecco, mo due ore per prendere l'arma. Primo colpo. Oh no? Eh sì, 2v2v1. Davanti a noi uno? Sì, voglio farla ventesima, te lo dico. Vai, vai, vai. Craccato. No, vabbè, uccidilo, va. Vincere la partita, sto scherciare, era per dire. Non è che ti dico di non ammazzarlo. L'ho craccato, ma non so dove è andato. È lì. Dove? È inediglic in fondo. Terra. Ok. Lo confermo, calla autoresse. Mi fanno. Non posso lanciare il bombardo, sono lì. Godo, 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 passo da sotto. Sono sopra? Sì, sì, 1v1. Mi riesci a levare il ping. A terra, quello là? Ok, io gli sto sotto da qua, eh. Aspetta, Godo, non credo che serva push. Bravo. Ok, se ti pusha da sopra te lo chiamo, non lo vedo. Ok. Boh, non lo vedo. Era il tizio che ho noccato io, eh. Devi uno. Sì, eccola, è sopra, è sopra. Craccato di nuovo là. Non avrà tante corazze perché gli ho dato una raffica, quindi secondo me non ne ha più. Vado a prenderlo. Vabbè, al massimo vinci te da sotto. È sopra, lo sento. Dov'è? È sotto. Sotto? Sì. Ah, lo sento. No, no, è sulle scale. Oh, bel game, raga. Bello, cazzo. Ho due, oh. Bravo, bravo, God. Bravo, Robi. GG. Bel game. Bella raga. Bella, berri. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Ti sei accanito in seguirmi. Eh, minchia, ma eri, eh, no, lì eri da fare. Però non ce l'ho fatta, ragazzi. Bella, raga. L'altro full team, tranquillo. Bella, boys. Buona serata, buona serata. Bella, bella.